è brutto, è brutto, è brutto, è brutto, è brutto, è brutta stagione, ma il cazzo sta a dire è fighissimo, l'integr non riesce a vincere, lo scudetto neanche quando gli regalano 15 punti è fantastica, la stagione è bellissima, io arrivo quarto, arrivo quarto e vado a vedere il prossimo anno in Champions, io sto in seconda fascia e loro stanno in terza, non gli serve ne manca arrivare arrivano secondi e arrivo quarto, loro stanno in terza fascia e io sto in seconda, perché è fino al confine, giustamente loro stanno in terza fascia, sono arrivati secondi, hanno provato a regalargli uno scudetto oltre a una Coppa Italia e oltre a mezza Supercoppa e non sono riusciti a vincerlo e vedo gente scrivere che il Mila è stato favorito complimenti alla squadra De Pioli e a Pioli che vince il suo primo titolo all'allenatore e alla squadra De Pioli che si è meritato il successo finale per continuità, per costanza, per prestazioni, nulla da dire e dicevo, Vito Gettich scrive che la partita di Bologna che è stata rinviata non si doveva giocare lì, l'Inter doveva vince 3 a 0 a tavolino perché qua la partita... ma voi avete la fascia come il culo, avete la fascia come il culo cioè dovete entrare dentro casa, chiudere, lucchettare, aspettare agosto che ricomincia il campionato sperando che gli arbitraggi continuino ad essere come quelli della stagione, per poter parlare, perché almeno vincete pure rubando, tanto voi avete la fascia come il culo, dite che per voi è tutto regolare, siete il male del calcio da una vita, accusate noi di quello che avete sempre fatto voi, però neanche riuscite a vincere gli scudetti, 12-15 punti regalati in una stagione e perdere lo scudetto è umiliante, umiliante, siete una barzelletta, siete fantastici, io vorrei vedervi proprio uno dietro l'altro, vorrei vedere tutti la vostra faccia adesso, uno dietro l'altro, tutti quelli che parlavano, perché siete umilianti e poi soprattutto vorrei sapere adesso tutti i media, tutta la carta stampata, tutti i giornalisti, tutti i leccaculo che avete al vostro servizio, a cominciare da Guernano, da Giardino, amico dalla curva, Pistocchi, che cosa diranno di Mister Spiazze? Mister Spiazze che ha preso l'Inter, vi conto, Marotta ha fatto un ottimo mercato sostituendo due pezzi da 90 con dei giocatori funzionali, fino a dicembre ha avuto una squadra che era una macchina da guerra e l'Inter meritava quella posizione, poi è calato un pochetto l'Inter, sono arrivati una serie dei favori che vanno tenuti a galla in un momento che eravate palesemente in confusione fisica e tattica, è arrivata la botta che va dato proprio l'adrenalina, quella, il furto di Torino contro De Noi, prima già c'era stato il furto sempre a Torino con Toro, e c'era stato pure il furto di Bergamo, e c'era stato pure il furto con Venezia, e c'è stato pure il furto con Lempoli, e c'è stato pure il furto a Cagliari, però vabbè, questi sono dettagli, uno dietro l'altro, un fallo di mano, un intervento, Skriniere mai ammonito, mai un rosso, l'unica squadra in Italia senza nessuna espulsione, è una squadra che gioca sempre pulito, non entra mai a far fallo, soprattutto Skriniere, uno Barella, Cialanoglu, Brozovic, c'è tutta gente che non fa mai falli, però questi sono sempre dettagli, e c'era pure il coraggio della metà, adesso mi aspetto e voglio vedere, visto che l'altro anno Pirlo è stato criticato perché ha vinto due trofei con una squadra nettamente meno attrezzata della vostra, alle prime armi, perché Pirlo era la prima stagione, la Juve, qualcuno ha detto una stagione fallimentare dove ha vinto due trofei, vinti, non rubati, voi quest'anno avete rubato due trofei e dovrebbe essere una stagione fallimentare, rubato due trofei e non siete riusciti a vincere lo scudetto che vengono a far vincere. Riflessioni della domenica, fino alla fine intermerda.